La scuola Mario Giardini di Penne, l'unica nella regione Abruzzo, ha partecipato alla settimana dedicata al pianeta Terra inserito all'interno del Festival Nazionale delle Geoscienze, quest'anno dedicato al turismo lento per cui la scuola, coordinata dal referente del progetto, professoressa Giovanna Vacca, ha pensato ad un trekking all'interno dell'oasi di Penne, facendo osservare ai bambini la flora e la fauna. Il seguito è stata una mostra all'interno del Chiostro di San Domenico, dove i ragazzi hanno realizzato attività svolte sul territorio, in particolare quelle legate all'artigianato e alla gastronomia, invitando alcuni produttori che sono presidi Slow Food, in collaborazione con Condotta Vestina Slow Food. Una sezione è stata dedicata invece al Plastic Free, vista l'adesione al progetto del Ministero dell'Ambiente, Io sono Ambiente, Plastic Free. Questo è un progetto che il mio istituto, l'istituto Giardini di Penne, praticamente porta avanti da quattro anni, in risposta a ciò che il Ministero dell'Ambiente, di concerto ovviamente con il Ministero dell'Istruzione, per aiutare, incentivare e promuovere la sostenibilità sia ambientale ma anche per promuovere i prodotti del territorio, e quindi educare i bambini e questa educazione possa di riflesso giungere alle famiglie con la speranza di migliorare la conservazione del nostro ambiente naturale.